Amici benvenuti, oggi siamo a Playa Mata Palo de Carillo, Costa Rica. Allora, la barzelletta del giorno, un uomo sta per morire, sul letto di morte con la consorte vicino lui dice Amore, io sto per morire, ma ti devo fare una confessione, voglio andare all'aldilà, libero, hai presente due mesi fa, ti ho tradito con tua cugina. E la moglie, amore, stai tranquillo, non è il momento, stai tranquillo. Ecco, dopo ti ho tradito anche con tua sorella. E la moglie, amore, stai tranquillo, non ti preoccupare, rilassati. Ecco, dopo ti ho tradito anche con tua madre. E la moglie lo guarda e gli dice, amore, non ti preoccupare, sono già vestita di nero, rilassati, fai che il veleno faccia il suo effetto. Attenzione ragazzi, che noi donnine tutto sappiamo e tutto vediamo. Quindi, per il momento è tutto, dalla Costa Rica un caro saluto, a presto e ridete, ridete, ridete. Ciao! Grazie a tutti.